ci sei fantastico stefano allora ragazzi il racconto che leggiamo oggi ah innanzitutto vi dico che non so se si è già si è già finito di caricarsi ma ho pubblicato il racconto di ieri sono riuscito in quei modi assurdi a finirlo e l'ho caricato su youtube quindi potete andare su youtube a vedere il video quando volete poi di steven king l'ho finito da solo e l'ho pubblicato mi risulta essere pubblico adesso appunto e quindi andatevi a vedere poi il racconto di king così poi mi fate sapere cosa ne pensate innanzitutto ok ragazzi mentre oggi voilà oggi ha vinto il racconto di bukowski quindi oggi andiamo a leggere bukowski e di sicuro tutti voi conoscete di nome qualcuno di sicuro conoscerà anche perché l'ha letto qualcosa no no quello quello ci entra shanty lo facciamo sempre i problemi sono altri in questi tre giorni non ti sto a dire perché è lunga comunque allora ragazzi oggi leggiamo bukowski personaggio veramente 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 famoso è diventato un personaggio di culto soprattutto tra i giovani e tra un po' i quelli che vengono considerati i disadattati charles bukowski ha scritto diversi diversi anni durante tutti gli anni 60 70 80 e 90 è morto nel 94 di leucemia a 74 anni se non sbaglio si dovrebbe essere e era un anticonformista era un provocatore nato era uno che ha suscitato molte molte polemiche e ha ricevuto molte critiche dal mondo letterario e non per il suo stile di vita assolutamente da disagiato sesso droga rock and roll in buona sostanza è uno scrittore che divide l'opinione o lo ami o lo odi io personalmente non sono un fan spiegato di bukowski ma non perché non non lo ami ma per il semplice fatto che non mi sono mai appassionato tantissimo alla sua scrittura più che altro al suo stile di scrittura anche se c'è da dire che le traduzioni spesso sono secondo me non sono azzeccate infatti la traduzione che andiamo a leggere oggi oggi che oltretutto è di un libro non particolarmente di una pubblicazione non particolarmente vecchia è una traduzione secondo me assolutamente assolutamente sbagliata ma non sbagliata nel senso grammaticale sbagliata nel senso che hanno cercato di riprodurre il suo stile lo slang americano di bukowski traducendo quasi letteralmente a volte delle forme trovando delle stili italici simili ma secondo me non non molto appropriati spero che venga venga ripubblicato con una traduzione più più azzeccata più moderna bukowski era un poeta di sicuro era un poeta autentico era un poeta molto molto bravo molto brillante la sua scrittura invece nei romanzi e nei racconti è discutibile appunto nel senso che lui era uno essendo un anticonformista era uno che non rispettava apposta molte leggi andava contro le regole della scrittura alcuni racconti sono scritti con la lettera minuscola dopo il punto questo libro di racconti che si chiama storie di ordinaria follia è un libro che racconta che raccoglie 42 racconti di bukowski la maggior parte dei quali e comunque tutti in parte autobiografici come spesso scriveva lui lui ha sempre scritto della società americana criticando la società americana trattando temi di di persone comuni spesso con problemi di lavoro le prese col posto fisso con con drammi di quel tipo e delle delle mille mille esperienze autobiografiche con donne droga in particolare alcol bukowski era il famoso ubriacone che oltretutto a 50 anni ha mollato appunto il posto fisso per cui ha lavorato una vita cambiando diversi lavori per dedicarsi appunto alla quello stile di vita totalmente totalmente come dire fuori dai canoni e aveva quasi l'aspetto di uno di un senza tetto bukowski spesso spesso lo lo era tra virgolette e bukowski è stato così così diciamo non 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 ha ricevuto particolari premi letterari durante la sua carriera o particolari elogi dall'ambiente letterario che l'ha sempre spesso criticato ma ne ha ricevuti invece tantissimi a livello proprio di di pubblico e di fama mondiale è diventato un un classicone degli anni del novecento e ha ha suscitato così tante polemiche al punto di essere oltretutto messo in un l'fbi a un fascicolo aveva un fascicolo su su bukowski aperto dopo che aveva scritto lui era un colonnista un colonnista un colomnist non mi ricordo il termine italiano che pubblicava appunto su su riviste le sue colonne di di articoli su giornali e dopo che aveva pubblicato questa questa colonna di 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 articoli chiamati notes of a dirty old man le note di uno di uno sporcaccione di un vecchio sporcaccione e l'rbi ha aperto un fascicolo su di lui oltretutto e come dire in questo racconto in questo libro la maggior parte dei dei protagonisti sono book cioè bukowski che quasi sempre ha un ha un omonimo nei suoi racconti chiamato cinaschi che alla fine poi è lui stesso per l'appunto allora ciao is ciao co quindi se mi vedete bene ed è tutto apposto io andrei a provare a leggere il racconto di bukowski che ho scelto essere per il titolo oggi un'amabile storia d'amore l'ho scelto mi interessava il titolo perché mi incuriosiva l'ho letto tanti anni fa non me lo ricordo bene il titolo mi ha incuriosito perché assomiglia tantissimo al titolo del mio romanzo che ho scoperto adesso appunto non mi ricordavo questa non sapevo di questa similitudine il mio romanzo si chiama una orrenda storia d'amore spero un giorno potrete leggerlo bene quindi ho scelto un amabile storia d'amore di bukowski sono tutti racconti molto brevi questo è quello leggermente meno breve per non essere proprio un racconto di non leggere proprio un racconto di cinque minuti allora maurizio eccolo qua se mi dite che mi si vede bene mi si sente bene su youtube e instagram da tutte le parti io andrei a leggere il nostro racconto tanto apro la pagina giusta un'amabile storia d'amore vi faccio vedere la maglietta di oggi spettacolare presa a firenze secondo me è uno di quei negoziati fantastici underground che tre charts for president per sempre che tre char candidato per presidente mi raccomando votate allora perfetto si vede sente bene qua su youtube ottimo ragazzi io vi direi che non aspettiamo oltre e andiamo a leggere vengo da un film di king fantastico che film hai visto stefano maurizio perdonami di king che film hai visto ieri alla fine uno di quelli che ti ho consigliato ah oltretutto il da questa raccolta di racconti di bukowski storie di ordinare la follia è stato tratto un film negli anni ottanta italiano dallo stesso titolo storie di ordinare follia non 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 so se consigliarvelo per il semplice motivo che non l'ho mai visto e sarebbe curioso di vedere come hanno diciamo riportato sulla pellicola una storia una raccolta che invece è di racconti anche se sono tutti hanno tutti un filo logico un filo comune un film con ornella muti la nostra mitica ornella muti bellissima quindi nel caso poi andate a curiosare hai visto pezzi mattari e poi nell'erba alta ok nell'erba alta io lo trovo orrendo un film assolutamente veramente osceno l'ho trovato poi però sono gusti per carità e pezzi mattari come ti avevo come ti avevo detto spero tu abbia visto l'originale e non il il remake moderno nonostante questo tutti e due non sono grandi film non sono grandi film al 2019 è un film veramente del cavolo veramente una grandissima cagata allora io ti consiglio di andare a vedere gli altri che ti ho detto di king ragazzi andiamo a leggere il racconto ciao jaco minucci grandissimo giaco ti mando un grandissimo abbraccio se vuoi rimanere con noi stiamo per leggere proprio adesso un racconto di bukowski quindi mettetevi comodi e iniziamo con la lettura buon ascolto questa è un'amabile storia d'amore ero al verde un'altra volta ma stavolta mi trovavo nel quartiere francese di New Orleans allora joe blanchard direttore del giornale underground overthrow mi accompagnò in un posto lì vicino era una di quelle casette bianco sporco con le persiane verdi i gradini ripidissimi era di lunedì io ero in attesa di un compenso no d'un anticipo per un libro pornografico che avevo scritto per i tedeschi ma i tedeschi badavano a mandarmi a dire fregnacce ogni sorta di balle che il padrone era sempre sbronzo che erano in passivo e nella merda fino al collo perché il vecchio aveva prelevato tutti i fondi dalla banca no e messo a segna vuoto per berseli e scoparseli quei soldi così erano all'asciutto però adesso lo buttavano fuori a zampate quel vecchio e non appena blanchard suonò alla porta venne aprire una cicciona in là con gli anni che avrà pesato un quintale e mezzo ci aveva addosso come un bardacano e gli occhietti fini fini era l'unica cosa piccina che ci avesse era marì glaviano proprietario di un caffeuccio del quartiere francese un caffè molto piccolo ecco un'altra casa un'altra cosa che non aveva grande il suo caffè però era un grazioso locale tovaglie bianche rosse prezzi cari pochissimi avventori presso l'ingresso c'era una di quelle bambole d'una volta una mammy doll una balia negra la mammy doll stava lì a ricordare i vecchi tempi i bei tempi d'una volta che non tornano più oggi i turisti vanno solo in giro gli piace camminare qua e là e guardare le cose non si fermano più nei caffè neanche subriacano più niente rende più quattrini i bei tempi sono finiti a nessuno gliene ne frega più un cavolo di niente e nessuno c'ha più i soldi o se ce l'hanno se li tengono stretti siamo in un'epoca nuova e neanche tanto interessante tutti stanno a guardare i ribelli e gli sbirri che si fanno a pezzi a vicenda lo spettacolo al suo bello e poi è gratis così i soldi se li tengono stretti se ce l'hanno blanchard disse ciao marie ti presento charlie serkin charlie questa è marie salve dissi salute disse marie glaviano facci entrare un momento marie disse blanchard il guaglio con i soldi è di due tipi averne troppi oppure troppo pochi io era la frase troppo pochi era terra salimo alcuni ripidi scalini e la seguimo per un lungo budello di corridoio la casa era tutto per lungo niente per largo e ci troviamo in cucina ci sedemmo a un tavoli ci demontavolino c'erano su tre vasi di fiori marie stappò tre birre si sedette ecco marie disse blanchard charlie è un genio attraversa un periodo di strettezze sono sicuro che se la caverà ma frattanto frattanto non c'è un posto per dormire marie mi guardò siete un genio diedi una lunga sorsata alla birra francamente non saprei cosa dire più che altro mi pare di essere un subnormale ci ho come tante bolle d'aria in testa tante bolle d'aria bianca puoi restare qui disse marie era di lunedì la giornata di riposo settimanale di marie e blanchard se ne andò ci lasciò soli in cucina udì sbattere il portone quando uscì cosa fate mi domandò marie campo sulla fortuna dissi poi mi ricordate marty disse lei marty domandai e pensavo addio ci siamo c'eravamo beh siete brutto questo lo sapete insomma brutto no non dico brutto siete pesto ammaccato siete anche più ammaccato di marty era un pugile eravate anche voi un boxer ecco un altro dei miei guai non mi sono mai fatto strada coi pugni comunque gli somigliate a marty siete stato pestato ma siete gentile conosco il vostro tipo io li capisco gli uomini mi piace il vostro muso voi avete una faccia che mi va non potendo dire niente sul suo viso le domandai avete mica una sigaretta marie come no bellezza infilò una mano dentro quel barracano e tirò fuori un pacchetto di sigarette di tra le poppe li ci avrebbe voluto riporre le provviste per una settimana era buffo più o meno mi stappò un'altra birra diedi una bella sorsata poi le dissi sono buono di scoparti fino a farti urlare basta lo sai state a sentire charlie e la disse non mi va che parliate a questo modo sono una donna per bene mia madre mi ha insegnato la buona educazione se parlate a quel modo mi spiace non potete restare chiedo scusa marie stavo scherzando non mi piacciono ecco certo certi scherzi ho capito c'hai del whisky scotch va benissimo scotch ne andò a prendere una bottiglia quasi piena due bicchieri bevemmo whisky e acqua era una donna navigata questo era evidente probabilmente aveva navigato una decina d'anni più di me bah l'età non è mica una colpa solo che tanta gente invecchia male somigliate tutto a marty disse ancora tu invece non somigli a nessuno che ho mai visto dissi vi piaccio domandò per forza le risposi ma questa volta non mi redarguì restammo a bere un altro paio d'ore per lo più birra con un goccio di scotch inframmezzato ogni tanto poi mi accompagnò in camera mia passammo davanti a un'altra stanza e lei mi disse io dormo qui c'era un letto a due piazze accanto al mio letto ce n'era un altro strano ma non voleva dire niente voi potete dormire nell'uno o nell'altro mi disse marì oppure in tutte e due aveva un non so che di presa in giro l'indomani mattina mi doleva un po la testa quando mi svegliai e la sentivo trafficare in cucina ma feci finta di nulla da persona saggia e l'udì a accendere la tv per il telegiornale del mattino l'apparecchio era su una mensola in cucina e udì il caffè venir su mi piaceva l'aroma del caffè non mi piaceva invece l'odore delle uova alla pancetta né mi piacevano le notizie del mattino e mi scappava da pisciare e avevo sete ma non mandava di far sapere a marì che ero sveglio così aspettai leggermente scocciato ma preferivo star solo non vedevo l'ora di restare solo in casa mentre lei seguitava a trafficare a trafficare e finalmente la sentì passare davanti alla mia camera devo scappare è tardi mi disse ciao marì le dissi io quando la porta si richiuse malsai andai al cesso mi sedetti a cacare ero là che pisciavo e cacavo a new orleans lontano da casa dovunque fosse la mia casa quando ecco che vedo un ragno appostato in un cantone che mi guarda quel ragno stava lì da tanto tempo lo sapevo da tanto prima di me lì per lì pensai di ucciderlo ma era così grasso e felice e brutto era il padrone di casa stetti un pezzo prima di farla tutta poi malsai mi nettai il culo e tirai la catena mentre uscivo dal cesso il ragno mi strizzò l'occhio non volevo scolarmi quel che era avanzato del whisky e seduto in cucina nudo bruco mi domandavo come va che la gente si fida di me chi sono io la gente è un branco di matti di ingenui questo mi dà un vantaggio me lo dava e come da dieci anni campavo senza un mestiere la gente mi dava denaro da mangiare da dormire mi ritenessero un idiota un genio non importava io lo sapevo di non essere né un genio né un fesso non me ne fregava niente del motivo per cui tanta gente mi faceva dei regali io li accettavo e basta senza esaltarmi né sentirmi in obbligo l'unica premessa era che io non avrei chiesto nulla e soprattutto questo c'era come una specie di disco che girava e girava nel retro del mio cervello e ripeteva sempre lo stesso motivetto non tentare non provarci una buona norma direi comunque dopo che marì fu uscita mi bevi tre birre che trovai nel frigo non ci ho mai tenuto tanto al mangiare lo so che c'è gente che va pazza per il cibo a me invece il cibo mi annoia il liquido mi va giù bene le cose solide mi si impongono cacare mi piace però mi piacciono gli stronzi ma crearli è una brutta faticaccia scolati tre barattoli di birra feci casa una borsetta lì su una sedia certo marì era uscita con un'altra borsetta sarà stata mica tanto scema da lasciarci dei soldi l'aprì c'era dentro un biglietto da 10 dollari bene marì voleva mettermi alla prova e io l'avrei superata egregiamente a raffaile deca tornai in camera mi vestì mi sentivo bene dopo tutto che ci vuole a sopravvivere niente proprio così e avevo persino le chiavi di casa quindi uscì e chiusi il portone a chiave per precauzione contro i ladri e mi avviai per le strade del quartiere francese che era un gran stupido posto però toccarangiarsi da ogni cosa dovevo trarre vantaggio ecco quanto così ah sì insomma camminavo per le strade e il guai era che nel quartiere francese non c'erano negozi di vini e liquori come da ogni parte nel mondo che si rispetti forse ciò era voluto sì perché faceva comoda quei feti di buchi di bar che s'aprivano a ogni cantone appena entrato in uno di quei tipici bar del quartiere francese mi veniva subito da vomitare e di solito passavo a vie di fatto infilandomi in un cesso puzzolente e rigettando tonnellate di uova fritte e patate malcotte e poi dopo tornavo di là con lo stomaco svuotato e mi guardavo intorno di più squalli dei tristi degli avventori c'era solo il barista specie se era pure il proprietario sicché seguitavo a girare qua e là a cercare per non dover entrare in uno di quei bar e sapete alla fine dove trovai della birra in barattoli in una botteguccia tutta buia con l'intonaco scrostato un odore di pane stantio un'aria grama che ti pareva che invocasse aiuto sì terribile neanche tenevano la luce accesa per non consumare elettricità erano diciassette giorni che non vedevano una confezione da sei barattoli di birra e diciotto anni che non me ne vendevano tre tutte in una volta e la cassiera a momenti se ne veniva era troppo presi il resto i diciotto barattoli di birra e corsi fuori nelle strade stupidamente assolate del quartiere francese rimisi il resto dei soldi nella borsetta che lasciai lì aperta sul tavolino perché marie li vedesse subito mi sedetti e stappai una birra era bello essere soli però non ero solo ogni volta che andavo a pisciare vedevo quel ragno e allora pensavo mi sa tanto ragno mio che ti toccherà sloggiare non mi garba che tu te ne stai lì in quell'angoletto buio a catturare le mosche e gli insetti a succhiargli il sangue vedi tu sei malvagio ragno mio io no io sono buono o perlomeno a me piace vederla così tu invece non sei altro che un'oscura maledetta molecola di morte ecco cosa sei tu magna merda però adesso hai finito di godere trovai una scopa nel retro cucina e tornai di là e lo sfragnai con un colpo gli diedi la morte bene ecco fatto sì lui stava lì da prima questo è vero da prima di me ma come poteva marie sedersi sulla tazza con il suo nome culo e cagare e guardare quel ragno l'avrà mai manco visto forse no tornai in cucina e bevi un'altra birra poi accesi la tv gente di carta gente di vetro mi pareva di diventare matto e la spensi bevi dell'altra birra poi mi bollì due uova e mi frissi due fette di pancetta riusci a mangiare certe volte te ne scordi il sole filtrava dalle tende bevi per tutto il giorno buttavo i vuoti nella mondezza il tempo passava poi la porta si aprì si spalancò era marì gesù cristo esclamò sai che è successo no che non lo so oh mannaggia cos'è successo stella ho lasciato bruciare le fragole a sì girava in tondo qua e là per la cucina e il gran culo le ballava era matta era fuori di sé povera vecchia sorcona grassa avevo messo una pentola di fragole sul fuoco in cucina quando arriva sta turista capirai la prima cliente della giornata una puttana con la grana che voleva comprare un cappellino sai di quei cappellini che confeziono io insomma incomincia a provarsi lì è graziosa com'è tutti gli vanno bene e così c'è l'imbarazzo della scelta e poi ci mettiamo a discorrere di detroit una cosa e l'altra conosceva certa gente di detroit che conoscevo anch'io una storia e l'altra e poi tutta una volta sento puzza di bruciato le fragole che si bruciano corlo di là in cucina troppo tardi che macello le fragole sono sparse dappertutto la pentola ha traboccato si è bruciato ogni cosa che puzzo che tristezza non se n'era salvata neanche una mi dispiace ma gliel'hai venduto un cappello gliene ho venduti i due non riusciva a decidersi mi dispiace per le fragole ho ammazzato quel ragno quale ragno mi pareva che non lo sapevi che non sapevo cosa ma che ragni ragni sono solo degli insetti mi risulta che il ragno non è mica un insetto per via del numero delle zampe ma non lo so non me ne frega un ragno non è un insetto che panzana è mai questa non è un insetto così dicono comunque l'ho ammazzato il maledetto hai messo le mani nella mia borsa certo l'avevi lasciata lì avevo voglia di birra sempre voglia di birra tutto il tempo sì è un bell'affare hai mangiato qualcosa due uova e due fette di pancetta hai fame sì ma sei stanca riposati bevi un po cucinare mi rilassa prima però devo fare un bagno caldo fa pure ok dopo aver ceso il televisore andò al bagno mi toccò ascoltare il telegiornale parlava uno tutto brutto tutto stronzo con tre narici un odioso bastardo acchittato come un bambolotto cretino e mi guardava sudava pronunciando parole che capivo sia no di cui non mi fregava proprio niente marie invece stava ore e ore lo sapevo davanti alla tv toccava adattarsi quando marie tornò stavo là con gli occhi incollati sullo schermo ciò la rassicurò ero innocuo come un uomo immerso nella cronaca sportiva o davanti a una scacchiera si era messa un altro abito si era tutta ghindata sarebbe anche stata non c'è male marie pure carina se non fosse stata maledettamente grassa bah perlomeno non dormivo su una panchina vuoi che cucini io marie no fa niente non sono tanto stanca ora cominciò a preparare da mangiare quando m'alzai per andare a prendere un'altra birra la baciai dietro un orecchio tu sei in gamba marie hai abbastanza da bere per il resto della notte mi domandò certo pupa e poi c'è ancora un po di quel whisky tutto a posto non desidero altro che star qui a guardare la tv e chiacchierare va bene come no charlie mi sedetti quel che stava cuocendo mandava un odorino delizioso era certo una era certo una brava cuoca l'aria stessa era appetitosa lì fra quelle pareti non stupiva che fosse così grassa ottima cuoca ottima forchetta adesso stava preparando uno stufatino ogni tanto salsava a controllare aggiungerci un odore un ingrediente una cipolla un pezzo di broccolo qualche carota sapeva il fatto suo la guardavo sorseggiando la mia birra grossa e grassa era intenta a confezionare uno di quei suoi meravigliosi cappellini come per magia pescava con le mani in un cestino sceglieva un colore poi un altro un nastrino poi un altro poi li passava intorno li cuciva li infiocchettava e quell'affarino di raffia acquistava un non so che di magico marie creava dei capolavori che non sarebbero mai stati scoperti che delle stronze avrebbero portato a spasso sulla testa mentre lavorava e accudiva allo stufato parlava non è più come una volta la gente non ha soldi vanno in giro con assegni di viaggio ceccari e lettere di credito qua la parola probabilmente sono io che la pronuncio male perdonatemi il denaro non lo porta più in giro nessuno il credito è tutto uno riscuote lo stipendio è già tutto belle speso per comprare la casa si poteca la vita e poi quella casa bisogna riempirla di stronzate e bisogna aver la macchina sono fissati per la roba il governo lo sa e così li tartassa di tasse ed imposte sui beni e sui consumi nessuno ha più denaro le piccole aziende non ce la fanno a tirare avanti ci mettemmo a cena lo stufato era squisito dopo mangiato tirammo fuori il whisky e marie mi aveva portato due sigari e restammo su a guardare la televisione chiacchierando poco o niente mi pareva di abitarli da anni lei badava a lavorare i cappellini ogni tanto diceva qualcosa e io ah sì come no ma davvero non mi dire e i cappellini uscivano come per miracolo dalle sue dita capolavori marie le dissi sono stanco vado a letto mi disse di portare con me il whisky e così feci però invece di andare nel mio letto mi infilai in quello di marie dopo essere mispogliato si intende il materasso era molto soffice un gran bel letto antiquato con colonnine di legno e un baldacchino o come diavolo si chiama se a furia di scopare buttigio il baldacchino sei un asso io pensai non farò mai crollare quel palco senza l'aiuto degli dei marie vado a guardare la tv e far cappellini poi la udì spegnere il televisore spegnere la luce in cucina venire oltre passare oltre senza far caso a me andare al cesso ci restò un bel pezzetto poi la vidi spogliarsi e infilarsi una camicia da notte rosa quindi si mise alla tua letta tramestò con le creme e i bigodini poi si alzò venne oltre e mi vide dio mio charlie hai sbagliato letto senti tesoro io non sono una donna di quelle o pianta la coste fregnace e salta su ubidi mamma mia che montagna di carne anzi un po ero spaventato che ci facevi con tutta quella roba beh ero in trappola il letto dalla parte di maris profondò senti charlie la guantai per la testa gliela rigirai mi parve che piangesse le presi le labbra ci baciammo orco boia l'uccello mi sarmava duro dio bono duro che roba era charlie mi disse mica sei obbligato le presi una mano gliela la guidai sull'uccello oh mamma mia lei disse oh mamma mia poi mi baciò mi fece lingua in bocca aveva una piccola lingua quella almeno di piccolo ma guizzava da matti dentro e fuori piena di saliva e di passione mi ritrassi cosa c'è aspetta un attimo allungai una mano verso il whisky diedi una lunga sorsata rimesi giù la bottiglia tornai sotto le tirai su le camicie da notte cominciai a testare qua e tasta e tasta alla fine non lo so cosa trovai ma mi pare che fosse la patacca era piccola era però si trovava al solito posto sì era proprio la patonza presi a picchiarci contro con l'anerchia essa allungò una mano e mi guidò dentro un altro miracolo era stretta era a momenti mi scuoiava la cappella cominciamo il balletto la volevo portare per le lunghe ma del resto che importava comunque andava bene e fu una delle migliori scopate della mia vita gemevo e urlavo godetti da matti rotolai giù incredibile quando essa tornò dal bagno parlammo un poco poi marisa addormentò russava così traslocai nel mio letto quando mi svegliai l'indomani lei stava uscendo per recarsi al lavoro devo scappare charlie mi disse certo baby appena fu uscita andai in cucina e bevi un bicchier d'acqua aveva lasciato la borsetta su una sedia 10 dollari non li presi tornai al cesso e mi feci una bella cagata senza ragnaccio poi feci il bagno mi lavai i denti vomitai un tantino mi vesti andai in cucina presi un foglio di carta e una penna marì ti amo sei stata molto buona con me ma devo andar via e non lo so esattamente perché sono pazzo mi sa addio charlie collocai il biglietto bene in vista appoggiato al televisore non mi sentivo bene avevo come voglia di piangere era così tranquillo lì era tranquillo come piace a me perfino il frigo e i fornelli parevano umani voglio dire umanamente buoni pareva che avessero braccia e voce e che dicessero resta qui nino qui si sta bene puoi trovarti molto bene qui andai in camera a pigliare quel che restava del whisky lo bevi poi trovai un barattolo di birra nel frigo bevi anche quella poi mi alzai e percorsi il corridoio pareva lungo 100 metri arrivai alla porta e ricordai che ci avevo la chiave tornai indietro misi la chiave accanto al biglietto poi guardai di nuovo il deca dentro la borsetta lo lasciai là poi percorsi nuovo il corridoio sulla porta sostai sapevo bene che una volta chiusa non sarei più potuto rientrare la chiusi era detta scesi i gradini esterni ero solo di nuovo e a nessuno fregava mi allontanai presi la prima svolta a destra seguitai a camminare cammina e cammina usci dal quartiere francese attraversai canal street seguitai a camminare girai a destra poi a sinistra poi ancora avanti non sapevo dove stessi andando passai davanti a un locale c'era uno sulla soglia che mi fa ehi volete un lavoro sbirciai dentro e vidi tante file di uomini in piedi davanti ai banconi di legno con un martello in mano che davan martellate a delle robe come delle conchiglie o delle cozze e spaccavano il guscio e tiravano fuori il buono e non so che ci facevano era buio lì dentro era come se quegli uomini colpissero se stessi col martello e buttassero via quel che avanzava di loro dissi a quell'uomo no un lavoro non mi serve passai oltre avevo il sole in faccia avevo 74 cents il sole mandava bene fine questa era un'amabile storia d'amore di bukowski rappresenta in pieno in pieno lo stile dei racconti di bukowski assolutamente soprattutto in questa raccolta quindi è molto concepibile capire se piace o non piace di sicuro però quello che dicono tanti penso giustamente è che bukowski uno scrittore che non si può capire bene solo dei racconti perché perché è molto molto come avete sentito schietto e molto volgare a tratti in maniera a tratti simil poetica che non riesce a capire come come faccia ad esserlo ma anche un provocatore nato spesso spesso cade anche nel nel maschilismo più totale cosa che è importante che ci sia anche nella letteratura perché la letteratura deve deve presentare tutto book irriverente divertente ciao pane tulipani grande mi dispiace purtroppo abbiamo avuto problemi anche oggi che non riuscite a sentire bene immagine bloccata cioè che va a scatti certo purtroppo oggi pare sia così e fatemi sapere i vostri commenti su bukowski poi ve ne leggo un altro piccolissimo suo e così oggi facciamo questa questa incetta di bukowski perché c'è un altro racconto molto molto corto che secondo me è interessante ha alcune uscite molto brillanti mentre altri sono più altri sono assolutamente passabili quindi questo secondo me vi descriverà pieno lo stile di questo libro e quello che rappresenta c'è bukowski al 99 per cento all'interno di quel personaggio che infatti si chiama charlie come avete probabilmente intuito ancora immagino allora aspetto i vostri commenti ragazzi purtroppo l'immagine oggi per colpa delle connessioni probabilmente in generale sta avendo problemi non so bene che dire sinceramente purtroppo è così non me la sento di scollegarmi di nuovo magari ci scolleghiamo un attimo al volo per leggere altro racconto ma non so se conviene maschilismo dal nostro punto di vista per la nostra sensibilità ma per l'epoca rivoluzionario figlio della società americana dell'epoca mi fa molto piacere che lo dici perché sono completamente d'accordo maschilismo oltretutto cercato perché bukowski non era uno stolto che non sapeva quello che stava andando a dire come i grandi provocatori della storia nell'arte ha provocato in maniera assolutamente riuscita e anche c'è anche da dire che sono spesso autobiografie di uomini come dice lui di vecchi sporcaccioni quindi lui non si giustifica io almeno per mia esperienza non l'ho mai sentito giustificarsi che è importante da ricordare secondo me è molto auto ironico ma anche realista ma non giudicante vedi quello che ho appena detto sono contento guarda la persona senza sconti ma rispetta i sentimenti mi fa molto piacere che dici questo perché perché bukowski è spesso incompreso e ripeto non lo sta dicendo un mega fan che vuole solo elogiarlo perché io non sono un fan di bukowski sono uno che ha apprezzato qualcosa ma non mi sono mai messo poi non mi ha mai preso tantissimo però riconosco che che sia assolutamente autentico lui come personaggio non è uno che giudica ed è proprio per questo che le sue cose così spinte così volgari così provocatori a volte sono 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 assolutamente alla portata di tutte le menti più un po acute no di chi non si ferma alle apparenze secondo me questo punto di questo punto l'abbiamo colto un po tutti sono sono d'accordo scusate margon milano buongiorno ragazzi intanto per chi non l'ha ancora non l'ha fatto e perché mi vede adesso andate su youtube iscrivetevi al mio canale vennibrando su youtube perché ci sono appunto tutti i video passati delle dirette anche molto migliori di questa a livello di qualità visiva d'immagine e abbiamo letto un sacco di autori veramente veramente interessanti di tanti tipi diversi e ci sono anche tanti miei racconti quindi mi farebbe piacere se voi mi facciate sapere i vostri pareri sui miei racconti e su quello che abbiamo letto andate a scrivere il mio canale vennibrando e se mi state scrivendo dei commenti scrivete intanto apro la pagina dell'altro racconto piccolissimo di tre pagine proprio che voglio leggervi per per lasciarvi con questo oggi visto che siamo andati un po alla lunga anche oggi adesso mi rimetterò poi appena chiudiamo a contattare il servizio di supporto di questo qua a fargli il culo e poi proseguiamo i prossimi giorni se tutto si sistema meglio con le nostre tragedie misteri del rock ok allora ragazzi Lady Shoes Book buongiorno buongiorno a tutti rimanete con noi stiamo per leggere un racconto di tre pagine di Bukowski molto breve che ha alcune uscite molto brillanti che mi piacevano nell'inizio volevo condividere con voi ripeto non è il mio scrittore preferito in assoluto anzi non lo è proprio nonostante io cerchi spesso lo stremo il più spinto possibile andate a vedere su youtube gli altri video che abbiamo messo ci sono tanti autori che mi fanno esaltare ancora di più grazie del cuore allora ragazzi vi leggo quest'altro racconto di Bukowski quindi mettetevi comodi sarà proprio una questione di cinque minuti e poi lo vediamo insieme lo commentiamo insieme buon ascolto questo racconto è troppo sensibile come mi sento spesso io e purtroppo non in maniera positiva quando ci penso non mi è dispiaciuto affatto perdonatemi Stefano dice ai suoi momenti espliciti ma sono riuscito a seguirlo bene sono contento sono contento vedi abbiamo opinioni di tutti i tipi allora ragazzi buon ascolto troppo sensibile inizia con un piccolo paragraffino una piccola premessa in corsivo che è questa qua mostratemi un uomo che abita solo e ha la cucina perpetuamente sporca e cinque volte su nove vi mostrerò un uomo eccezionale Charles Bukowski 27 giugno 1967 alla diciannovesima birra mostratemi un uomo che abita solo e ha una cucina perpetuamente pulita otto volte su nove vi mostrerò un uomo detestabile sul piano spirituale Charles Bukowski 27 giugno del 67 alla ventesima birra e qui parte il racconto spesso lo stato della cucina riflette lo stato della mente gli uomini confusi e insicuri d'indole remissiva sono dei pensatori le loro cucine sono come le loro menti ingombre di rifiuti stoviglie sporche impurità ma essi sono coscienti del loro stato mentale e ne vedono il lato umoristico a volte presi da uno slancio focoso essi sfidano le eterne deità e si danno a mettere ordine nel caos cosa che a volte chiamano creazione così pure a volte mezzo sbronzi si danno a pulire la cucina ma ben presto tutto torna nel disordine e loro a brancolare nelle tenebre bisognosi di pillole e preghiere di sesso di fortuna e salvazione l'uomo con la cucina sempre in ordine è invece un maniaco diffidatene lo stato della sua cucina e quello della sua mente coincidono costui così preciso e ordinato sia in realtà lasciato condizionare dalla vita e la sua mania per l'ordine dentro e fuori è solo un avvilente compromesso un complesso difensivo e consolatorio basta che l'ascolti per dieci minuti e capisci che lui in vita sua non dirà mai altro che cose insensate e noiose è un uomo di cemento vi sono più uomini di cemento al mondo che altri sicché se cerchi un uomo vivo dà un'occhiata alla sua cucina prima e ti risparmirai un sacco di tempo ora la donna con la cucina sporca è un'altra questione dal punto di vista maschile ovviamente se non lavora altrove e non ha figli la pulizia o la sporcizia della sua cucina sono quasi sempre con qualche eccezione in proporzione diretta all'affetto che nutre per te alcune donne hanno teorie su come salvare il mondo ma non sono buone a lavare una tazzina di caffè se glielo fai osservare ti rispondono lavare tazzine non è importante purtroppo lo è specie per un uomo che ha lavorato per otto ore filate magari per dieci con lo straordinario a una fresa o a un tornio si incomincia a salvare il mondo salvando un uomo alla volta tutto il resto è magniloquenza romantica o politica vi sono brave donne a questo mondo io ne ho perfine conosciuto due o tre poi ci sono le altre un altro genere a quel tempo avevo un lavoro così bestiale che alla fine delle otto o dodici ore mi sentivo tutto il corpo indurito una tavola tutto un dolore dico tavola perché non c'è altra parola voglio dire alla sera non ero più buono neanche a infilarmi la giacchetta non riuscivo a sollevare le braccia per ficcarle nelle maniche il movimento non mi riusciva era troppo doloroso qualsiasi altro movimento causava una rossa esplosione di dolore un dolore che correva e serpeggiava come una pazzia mi beccavo anche un sacco di multe in quel periodo per lo più alle tre alle quattro di mattina una sera per esempio tornando a casa dal lavoro per non incorrere in contravvezioni dato che la freccia non funzionava più da un pezzo tentai di sporgere il braccio sinistro per segnalare che svoltavo il lampeggiatore non funzionava perché da ubriaco avevo divelto la levetta di comando sicché cercai di mettere fuori il braccio riuscì solo a posare il polso sul finestrino e mettere fuori il mignolo non riuscivo a alzare il braccio più di così e il dolore era ridicolo tanto ridicolo che mi misi a ridere era buffo da morire quel mignolo che spuntava in osservanza il codice stradale la notte era fonda e le strade deserte manco un'anima in giro e io là che facevo quel segnaluccio deficiente al vento sbottai a ridere e a momenti andavo a sbattere contro un'auto parcheggiata cercando di farla volata la voltata con un solo braccio mezzanchilosato e ridevo riuscì a parcheggiare in qualche modo e riuscì a arrivare al mio portone ah, casa mia eccola là a letto a ingozzarsi di cioccolatini mica no a leggere il New Yorker e la Saturday Review of Literature si era di giovedì i giornali di domenica erano ancora sparsi qua e là ero troppo stanco per mangiare riempì la vasca ma solo a metà per non correre il rischio di affogare meglio che sia tu a scegliere il momento non il caso uscito dal bagno mi trascinai strisciando come un millepiedi zoppo in cucina per tentare di bere un bicchiere d'acqua il lavello era intasato acqua grigia e puzzolente fino al bordo mondezza dappertutto da dare il volto a stomaco e poi quella donna aveva la mania di conservare vasetti e barattoli vuoti sicché in mezzo ai piatti sporchi eccetera galleggiavano vasetti e barattoli e coperchi come una sorta di gentile e insensata presa in giro di ogni cosa mi sciacquai un bicchiere e bevi acqua poi mi trascinai in camera indicibile il tormento per passare dalla posizione verticale a quella orizzontale sul letto l'unica era non muoversi quindi stavo là disteso immobile indurito come un baccalà la sentivo voltare le pagine e desiderando stabilire un contatto umano azzardai una domanda allora come è andata al laboratorio di poesia stasera? oh sono preoccupata per benny adimson mi rispose benny adimson sì è quello che scrive quei racconti tanto buffi sulla chiesa cattolica ci fa ridere tutti non gliel'hanno mai pubblicato nessuno però tranne uno su una rivista canadese adesso non le manda neanche più le sue cose secondo me è in anticipo sui tempi però è comico buffissimo ci fa tanto ridere qual è il suo problema? ha perso il posto da autista abbiamo fatto quattro chiacchiere prima della lezione dice che non riesce mica a scrivere quando è senza lavoro per scrivere gli ci vuole da avere un lavoro buffo dissi io ho scritto le mie cose migliori da disoccupato quando morivo di fame ma benny adimson mi disse benny adimson non scrive mica solo di se stesso scrive di altra gente oh lasciai perdere mi toccava aspettare tre ore lo sapevo prima di pigliar sonno per allora una parte del dolore se ne sarebbe andata come assorbita dal materasso se non chiedi lì a un po' era già un'altra volta ora di alzarsi e tornare al chiodo la senti voltare altre pagine del New Yorker mi sentivo maldisposto ma potevo anche sbagliarmi forse al laboratorio di poesia c'era qualche vero scrittore era improbabile ma poteva darsi aspettavo che il corpo mi si slegasse la senti girare un'altra pagina e scartare un altro cioccolatino poi mi disse sì Benny Adamson ha bisogno di un posto di una base di un punto di appoggio noi cerchiamo di persuaderlo a mandare le sue cose alle riviste vorrei proprio che leggessi i suoi racconti anticattolici anche lui una volta era cattolico sai non lo sapevo mica ma gli occorre un impiego noi tutti cerchiamo di trovargli un lavoro perché possa scrivere seguì una pausa di silenzio francamente neanche ci pensavo a Benny Adamson al suo problema poi cercai di pensarci un momentino e dissi senti lo so io come risolvere il problema di Benny Adamson davvero? sì e come? cercano gente alle poste assumano gente a destra e a manca si presenti la domattina così dopo sarà buono scrivere alle poste sì sì voltò una pagina prima di parlare poi Benny Adamson è troppo sensibile per lavorare alle poste oh silenzio e per un pezzo non sentì né voltare pagina né scartare dolcetti in quel periodo a lei piaceva molto un autore di racconti a nome Coates o Coates o Chaos o qualcosa del genere costui scriveva in modo deliberatamente monotono plumbe e colonne di pieni di sbadigli fra le inserzioni pubblicitarie per liquori e crociere ma nel finale non mancava mai un tizio appassionato di verdi e bevitore di bacardi che mettiamo strangolava una bambina di tre anni in tutina blu in qualche vicoletto di Nuova York alle 4 e 13 del pomeriggio ecco il concetto infregnato e subnormale che i redattori del New York erano dell'avanguardia raffinata cioè la morte vince sempre e tutti abbiamo le unghie sporche di fango tutto ciò è già stato fatto 50 anni fa da un tale a nome Ivan Boonin in un racconto intitolato Il Signore di San Francisco da quando è morto James Tarber il New Yorker svolazza come un pipistrello intronato fra postumi di sborni ai guardie rosse vale a dire hanno chiuso buonanotte le dissi seguì una lunga pausa poi si decise a darmi il contraccambio buonanotte disse alla fine con urla livide e tam tam di strazio ma senza un lamento in silenzio mi rigirai da supino a bocconi un lavoro di 5 minuti buoni per attendere l'alba e il nuovo giorno forse sono stato scortese verso questa donna forse ho trasceso per colpa della cucina e per spirito di vendetta c'è un bel po' di morchia nelle nostre anime specie nella mia e ho le idee confuse sulle cucine come su tante altre cose la donna di cui parlo ha molto coraggio lo dimostra in molti modi non era la serata buona ecco né per lei né per me e spero che quel fregnone dei racconti anticattolici abbia trovato un lavoro idoneo alla sua sensitività e che tutti quanti saremmo remunerati dal suo genio finora inedito tranne in Canada nel frattempo io scrivo di me stesso e bevo troppo ma questo lo sapete fine beh qua c'è Bukowski non più al 99% ma al 100% e questa deve essere proprio una 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 riflessione sua su quelli quelli proiettili veloci scritti in un attimo e e c'è anche secondo me molto un esempio l'esempio concreto di quello che parlavamo prima del maschilismo di cui parlavamo prima che noti in alcune frasi in maniera eccessiva e totalmente esplosiva ma dopo subito dopo ti rendi conto che appunto non è lì a giudicare anzi poi si si giudica giudica molto di più se stesso quasi anche se poi non giudica per niente se stesso e a volte tira fuori anche qualche parola parola carina sulle donne che frequenta quindi questi erano i due racconti di Bukowski aspetti i vostri commenti intanto leggo il commento della coche non ho affatto in tempo a leggere prima perché avevo iniziato a leggere il racconto io ho letto solo niente storie d'amore l'ho ritrovato in questo racconto mancavano giusto le corse dei cavalli esatto un'altra sua particolarità le allora le canzoni le canzoni niente canzoni d'amore ok allora ragazzi aspetto i vostri commenti su questo su questi racconti secondo me quest'ultimo è bellissimo mi piace un sacco quella riflessione iniziale mi piace un sacco come riesce a provocare lui facendo ovviamente offendendo tante persone che che si fermano alle apparenze anche se ripeto non sono un mega fan io faccio un po' fatica dopo un po' con la sua scrittura a seguire robe lunghe però è di sicuro interessante c'è un motivo per cui sia uno scrittore così popolare nel novecento mi farebbe piacere che tante delle ragazzine ventenniche scrivono frasi di Bukowski per intitolare i loro post su instagram andassero effettivamente a leggere Bukowski perché probabilmente molte di esse ne rimarrebbero assolutamente offese sconvolte perché è fantastico vedere quanto alcune frasi estrapolate dai racconti e dai libri di Bukowski siano state fatte passare come come frasi poetiche floreali e totalmente dolci quando appunto estrapolate fuori da un contesto allora spero siete riusciti a sentirmi bene purtroppo per chi mi sta seguendo per la prima volta ripeto oggi è stata una giornata impegnativa col live il video non è sempre così solo oggi mi si vede così male abbiamo avuto problemi di connessione seguitemi su youtube mi raccomando Vinny Brando andatevi a sentire tutti i racconti che abbiamo postato perché c'è tanta roba interessante e ci sono anche i miei racconti di cui avrei molto piacere ad avere ulteriori commenti e pareri visto che leggere come tutti voi qua sapete è impegnativo e tante persone fanno fatica a dare il tempo ad altri di leggere cose quindi mi farebbe molto piacere e mi aiutereste anche Vinny Brando canale youtube c'è un sacco un sacco di roba interessante Valeria io non trovo maschilismo perché riconoscere delle diversità senza dire è meglio o peggio è più democratico di chi ci vorrebbe tutti uguali io sono completamente d'accordo con te lo cito per il semplice motivo che è stato uno delle cose che hanno sempre trovato per criticare Bukowski tante persone con le menti magari un pochino più chiuse meno aperte meno invogliose di andare a scoprire ulteriormente per cercare di farsi un'idea effettiva su tutto il suo lavoro e quindi sulla sua visione sulla sua voce esattamente concordo con Valeria e anch'io perfettamente ragazzi aspetto i vostri commenti come dicevo prima appunto per chi non lo sa che c'è qua per la prima volta durante i live che si possono vedere su youtube salvati oltre ai racconti abbiamo dato un sacco di ho dato un sacco di consigli su film e serie tv spesso ricercate e abbiamo letto anche dopo i racconti spesso paragrafi tratti da un libro molto interessante sulle tragedie e i misteri del rock and roll quindi le morti più tragiche e incredibili delle star del rock molto interessanti allora Ace dice mi è piaciuto di più che il primo ed infatti ha un modo suo proprio interessante ma impegnativo sulla riflessione sono incuriosita beh di sicuro di sicuro ha un modo tutto suo cioè è una di quelle scritture che non si può non ammettere essere totalmente unica e individuale anche perché lui è uno che come Saramago in maniera completamente diversa si diverte con la grammatica e con le regole non con la grammatica con le regole grammaticali con la punteggiatura è un è un anarchico della punteggiatura queste ultime tre pagine che vi ho letto sono scritte appunto come avevo accenato prima con la lettera minuscola dopo il punto infatti perdonatemi se ho avuto qualche momento di confusione ma leggerle la prima volta così ad alta voce ogni tanto ci si può confondere lui riconosce la sua fragilità e la comprende negli altri con empatia io sono molto d'accordo io penso che Bukowski sia uno dei scrittori più espliciti e più a tratti similvolgare che però nello stesso tempo è uno dei più sensibili e uno dei più empatici riesce veramente a a insultare tutti ma allo stesso tempo a non giudicarli è incredibile devo ammettere questo ultimo racconto mi piace in particolare ok questi li ho letti bene ragazzi detto questo visto che mi sembra non ci sono più commenti io vi voglio ringraziare per aver avuto pazienza anche se la colpa non è mia oggi e ci diamo appuntamento domani alle 5 e mezza youtube e instagram live con un nuovo racconto che andate a scegliere voi adesso sulla storia di instagram e se ci riusciamo se tutto va bene una nuova tragedia del rock va bene ragazzi un abbraccio fortissimo a domani 5 e mezza